Buon pomeriggio Carmine in diretta con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani Presidente, io prima di parlare, intanto grazie per aver accettato il nostro invito dell'anticipo di venerdì con il Cosenza vorrei capire un po' quanto era forte l'arrabbiatura visto che avete tolto il riposo ai giocatori dopo Cittadella e fatti allenare il giorno dopo Credo che sia stata giusta la decisione del mister perché tra le altre cose lui era a casa quindi poteva tranquillamente starsene su invece nella realtà ha deciso lui, nella società non c'entra nulla ha deciso lui di tornare tutti quanti in pullman a Pescara e di allenarsi il giorno dopo quindi credo che anche i ragazzi abbiano apprezzato questo gesto del mister perché è chiaro che stando lì a casa sua e tornando indietro col pullman evidentemente aveva voglia di rimettersi subito a lavorare e credo che sia un gesto apprezzabile Facciamo un appello al pubblico per l'anticipo di venerdì sera con il Cosenza? Io mi auguro che venerdì sera ci sia uno stadio molto più pieno perché questi ragazzi hanno bisogno c'è una partita importante una partita che vincendola ci rimetterebbe un'altra volta nelle prime posizioni come si sta vedendo giornalmente questo campionato è molto molto equilibrato soprattutto nelle zone alte e quindi ci possiamo giocare tutto quello che è possibile fare da qui alla fine Senza Mancuso toccherà Del Sole dal primo minuto so che lei ci tiene molto a questo giocatore potrebbe essere una grossa chance Ma Del Sole se deve giocare deve giocare perché dimostra di poterlo fare non perché io ci tenga molto sicuramente è un giovane molto promettente come lo sono gli altri quindi se il mister deciderà di dargli una chance deve dimostrare in campo che questa fiducia è ben riposta Che cosa le è dispiaciuto tornando a Cittadella? Mi è dispiaciuto che nella prima mezz'ora credo che abbiamo fatto una discreta partita non abbiamo sicuramente demeritato poi abbiamo preso quel secondo gol che era assolutamente irregolare e poi ci siamo un po' sfaldati e non abbiamo capito più nulla Presidente, un flash sulle questioni societarie il 20 di marzo quindi non manca molto scade il termine per la ricapitalizzazione c'è preoccupazione, c'è fiducia? No, no, assolutamente io mi auguro che tutti e dico tutti partecipano alla ricapitalizzazione se dovesse mancare qualcosa i soci che ci sono hanno già optato per ricapitalizzare anche l'eventuale inoptato però credo che insomma non ci sarà nessuna defezione e quindi mi auguro che questa società possa arrivare tranquillamente a giugno senza nessun problema A proposito, visti i fatti di Foggia c'è anche il rischio che non paghino gli stipendi a Pescara questo rischio non c'è mai quindi la società è forte, lo possiamo dire? No, no, ma guardate io credo che quando si parla di società credo che queste cose siano alla base cioè per me è una cosa scontata dover pagare gli stipendi è una cosa scontata non dover prendere delle penalizzazioni per questi motivi tutto il resto è importante è lavorare, quello che è importante è lavorare sui progetti cioè sul fatto di rendere la società sempre più sostenibile perché purtroppo non è che a Foggia il Presidente del Foggia si diverta a non pagare gli stipendi evidentemente ci sono stati degli errori evidentemente in questo momento le aziende non sono più così floride come le erano tanti anni fa e soprattutto secondo me in Serie B soprattutto in questa categoria da parte nostra bisogna capire che al primo posto c'è la sostenibilità perché tanto prima o poi le problematiche se tu giochi comunque sempre a rosso e nero le problematiche arrivano purtroppo noi partiamo sempre in questo campionato con la possibilità con la visione con l'aspettativa della Serie A poi in Serie A ce ne vanno tre le altre 16 quest'anno o 17 il prossimo anno rimangono al palo anzi 4 di queste addirittura rischiano di andare in Serie C quindi è importante la sostenibilità per la società io credo che queste lezioni queste cose che succedono negli ultimi anni sono successe negli ultimi anni debbano servire a tutti quanti noi che siamo poi i presidenti che siamo le società a farci capire che il bilancio è sempre al primo posto